Era un maledetto inutile lunedì, uno dei tanti. Una fotocopia da ripiegare e gettare nel cassetto delle cose da dimenticare. La giornata non prometteva niente di buono, poi le cose peggiorarono, peggiorarono decisamente. E capito un tratto che il confine fra i vivi e i morti è una sottile linea oscura. Grazie per la visione!